ciao benvenuto in questo tutorial io sono roberto la corte e sono il creatore di questo corso online per quanto concerne le acquisizioni immobiliari in realtà con questo video corso tu riuscirai ad avere un protocollo preciso step by step che ti consente di trovare le case da vendere cioè da immettere sul mercato adesso ti spiego passo passo quali sono i procedimenti che dovrai fare per acquistarlo e farlo tuo ok quindi come prima cosa devi fare www.acquisizioneimmobiliare.info che è il link che vedi qua sopra e ti porta esattamente in questa pagina questa colonna landing page in questa pagina dove ti spiego esattamente con una formula semplice che ti consente sempre di trovare case da vendere cioè la dimostrazione del video corso che dimostrativo da un cd insomma una cover e questo qua è proprio il video corso per fare le acquisizioni immobiliari praticamente all'interno sono contenuti 6 più una lezione che ti consentono di studiare quando vuoi da dove vuoi col tuo pc tablet o smartphone quel che concerne io oggi consiglio principalmente di usare un pc ed essere concentrati in un ambiente dove ti consente esattamente di iniziare a progettare l'attività perché se tu sei in giro o sei impegnato e studi nei dettagli di tempo sicuramente non puoi ottimizzare il contenuto di questo video corso ok all'interno inoltre troverai anche se schede cartacee che uso io nell'operatività quotidiana quindi una volta che tu sei all'interno della landing page cioè della pagina della home di questo sito quindi www.acquisizionemobiliare.info scorri fino in fondo e vai su accesso alle acquisizioni io adesso eseguo tutti i passaggi sono in navigazione in incognita e spero che non mi tracci il computer perché ho già fatto diverse prove diversi test e ti posso garantire che siamo online e funziona infatti se tu puoi notare adesso c'è una cifra simbolica perché voglio con questo tutorial farti capire che realmente io faccio un acquisto vero reale che così ti possa rassicurare sui passi che dovrai compiere tu per farlo tuo ovviamente qua tu troverai la cifra del momento in cui tu l'acquisterai adesso farò un lancio di questo prodotto per 49 euro ma non so magari più avanti se avremmo successo se il prodotto piace e riusciamo ad ottenere diversi clienti soddisfatti che possono raggiungere i loro obiettivi probabilmente questo corso non sarà più alla cifra lancio di 49 euro ma così di seguito aumenteremo mano mano che avremmo la richiesta sulla base della richiesta aumenteremo il prezzo adesso troverai la seconda pagina una volta cliccato il pulsante che ti porta a un checkout di pagamento dove ti dice questo qua è il video corso acquisizione immobiliare sono sette lezioni dove passo passo ti consente sviluppare l'attività dell'acquisizione immobiliare inoltre hai anche sei schede cartace che ti permettono l'operatività quotidiana ok quindi questo è il video corso che tu stai acquistando che è segnato qua in bianco tu potresti cliccare qua per vedere di più in realtà momentaneamente siamo in fase lancio quindi è più dimostrativo insomma zoomarlo ma in realtà qua è contenuto tutto nella fase di acquisto poi abbiamo voluto fare un upsell abbiamo voluto dare delle altre offerte qualora tu sia interessato abbiamo momentaneamente in fase di prenotazione last minute abbiamo un altro video corso che è molto più completo perché sono tre giorni veramente di attività e poi di conseguenza le altre nostre offerte insomma ciò che oggi vendo io online riguardante l'attività immobiliare gli agenti immobiliari e il business dell'intermediazione ok quindi una volta passati a questa check out di pagamento fare il prossimo qua ti dà il totale qualora tu volessi acquistare non so anche il mio libro quindi vedrai che si andrà a unire l'offerta con il libro insieme al video corso per così poi ottimizzare anche anche questo tipo di acquisto dal momento che tu magari metterai un libro cioè un qualcosa di fisico io poi ti contatterò per l'indirizzo di spedizione in quanto ti andrò a spedire insomma il libro consentimi di dirti anche quest'altra opportunità che hai qualora tu acquisti il libro che questo libro comprato sul mio gestionale cioè su questo mio portale hai la spedizione gratuita quindi io ti contatterò per chiederti l'indirizzo e così di conseguenza farò una spedizione a spese mie e quindi tu riceverai il mio libro a 14 ore 90 senza ulteriori spese di spedizioni ok così insomma ti ho già informato che se compri il mio libro la spedizione è gratuita e così di conseguenza per tutti i miei pacchetti che sono fisici come anche le book e così di conseguenza insomma adesso qua ho questa roba qua ma ne abbiamo delle altre qualora tu dovessi trovare delle altre mie offerte nel mio carrello di fisico e vorresti comprarle sappi che io ti regalo la spedizione quindi andiamo a noi tiriamo via in questo caso perché non voglio farti comprare il mio libro ma siamo qua per farti comprare il mio corso quindi il video corso delle acquisizioni immobiliari per cui poi è facoltativo che tu voglia acquistare le altre offerte qualora tu volessi anche una coaching call con me insomma si può valutare di poter fare questo tipo di business qualora tu avessi la necessità di confrontarti con qualcuno che ha più di dieci anni di esperienza siamo già a 14 anni di esperienza nel settore e ti posso garantire che qualche risultato l'ho ottenuto ok quindi vista l'offerta facciamo il prossimo e così andiamo a fare la nostra registrazione quindi io adesso mi registro realmente quindi metto una mail mia personalissima vediamo se non mi traccia e ci metto il mio nome ci metto la corte perché ho paura che magari mi traccia anche col nome perché questo è il computer da cui lavoro opero e quindi ho fatto diverse prove per poterti consentire un acquisto sicuro e lineare quindi parola d'ordine e la password no quindi qua andrai a mettere la tua password io metto la mia metto la mia tu metti una password che ricordi in modo che non hai problemi successivamente per individuarla e quindi fai registra una volta che tu hai fatto il passaggio di registrazione come possiamo notare andiamo alla fase caricamento perché ho diversa roba momentaneamente collegato online e quindi andiamo alla fase 3 hai visto c'era l'offerta c'era la registrazione no come puoi notare e poi la conferma del pagamento che questa pagina qua quindi io adesso andrò a fare un pagamento a me stesso per questo video corso cioè l'acquisto di queste lezioni di acquisizione immobiliare facendo clic su acquistare quindi io clicco acquistare e mi porta sul canale paypal se tu non hai un paypal puoi tranquillamente vedi pagare tu comunque pagherai alla cortina immobiliare srl che è la mia azienda la mia azienda di punta cioè la mia agenzia la mia struttura immobiliare è una società srl e per cui una società di capitale dove io sviluppo sia il business online che riguardano le lente l'immobiliare il marketing insomma tutte le strategie anche per gli agenti immobiliari ma in primis l'intermediazione e quindi l'agenzia immobiliare tradizionale o la pura attività di agente immobiliare di intermediario ok quindi qua andremo a fare se hai un account paypal fai il pagamento con login perché tanto è sicuro va a me il pagamento vedi la corte immobiliare non ti puoi sbagliare qua ci avrai l'importo del pagamento qua login quindi vai a mettere se tu hai un conto paypal il tuo account e quindi fai il pagamento direttamente da lì oppure potresti proseguire con un pagamento attraverso carta ti faccio un esempio quindi italia quindi italia qua metteremo che tipo di carta solitamente visa qua metteremo il numero che c'hai sulla carta di credito adesso faccio a caso qua metteremo quando scade non so 0 2 30 ok qua ci va il codice dietro mettiamo 3 4 5 ok first name gli metteremo il tuo nome roberto ok il tuo cognome la corte ok qua metteremo gli indirizzi via italia italia dove 15 codice postale 120 città non so dove 120 torino così mi è venuta torino provincia di torino torino ecco qua ok qua se hai un telefono gli metti il telefono lo metti 4 3 4 4 1 2 3 4 5 6 e 7 qua se hai la mail ci metti la tua mail e quindi chiocciola gmail gmail ok metti la tua mail punto com e via poi acconsenti i dati e fai il pagamento una volta che tu clicchi il pagamento è uguale a loggarsi ok quindi se tu non hai il conto metti una carta di credito metti un paypal metti una carta prepagata l'acquisto è sicuro e non hai nessun tipo di problema sull'acquistare con una carta nessuno ti va a rubare delle somme oltre quello che sono prestabilite nel pagamento io entro col mio conto paypal lui mi dovrebbe riconoscere perché io ho un conto paypal e il mio pc è intelligente spero e quindi automaticamente adesso vado all'interno eccolo qua e mi dice roberto ok ci siamo guarda paga con carta o paga paypal io faccio paga paypal ok mi ha riconosciuto vedi ciao mi saluta anche e quindi questo se tu hai un account paypal è quello che ti dirà ciao nome paga con o carta e via io faccio paga adesso perché vado sul sicuro e ho eseguito il mio pagamento ci sei quindi dal momento che hai eseguito il pagamento quindi adesso avete sentito anche il bip perché mi avvisa mi sono auto pagato il corso per dimostrarti insomma la serenità nell'acquisto qua hai tutte le ricevute tutto il dettaglio ok se vuoi dettagliare ancora di più hai comprato un video corso acquisizione immobiliare questo è il codice dell'articolo questo è il pagamento e via adesso hai acquistato il video corso ci sei bene dal momento che tu hai acquistato il video corso ora io sono in navigazione in incognita e quindi non so se mi fa andare alla fase successiva ma vediamo cosa mi dice qua mi riporta al pagamento sorry quindi noi torniamo alla pagina iniziale e facciamo home quindi torniamo al pagamento iniziale diamogli il tempo di caricare ok e ora come vedi qua sopra mi ha riconosciuto e mi da il mio account e la disconnessione quindi io vado sul mio account eccomi e mi ha riconosciuto ci sei questo è il carrello dell'area membership che ho creato per te dove all'interno hai contenuto il video corso quindi casa ciao ti saluta per nome in questo caso bob ok ti dice acquisto e ti dà l'acquisto che abbiamo fatto oggi 22 maggio 2018 acquisto completato video corso ok poi ti dà le zone cioè accesso illimitato quindi tu per sempre avrai accesso a questo video corso e se tu sei un imprenditore o mi auguro che tu lo possa anche diventare avere dei collaboratori all'interno della tua azienda puoi tranquillamente sfruttare questo video corso nei limiti del possibile del copyright di tutte le attenzioni che tu debba avere nel gestire quest'area riservata puoi tranquillamente far studiare un tuo collaboratore eccoci qua benvenuti siamo all'interno dell'area riservata della membership di roberto alla corte e il suo primo video corso acquisizione immobiliare ti piace un po come te la raccontano bene allora questa è l'area riservata all'interno che si può accedere solamente attraverso il pagamento che tu hai effettuato attraverso i tuoi dati di accesso ok quindi il mio account e sei dentro la riservata quindi il video corso acquisizione immobiliare dove ti do il benvenuto al video corso per trovare case da vendere e ti dico guardi esattamente cosa c'è all'interno di questo video corso prima di studiare e qua trovi tutto ciò che è all'interno del video corso ok adesso puoi procedere a studiare perché hai tutto quello che ti serve per trovare case da vendere ok una volta fatto questo e quindi siamo al benvenuto possiamo passare alla lezione 1 possiamo procedere alla lezione 2 possiamo procedere alla lezione 3 io ti consiglio possiamo procedere alla lezione 4 ti consiglio di gestirti l'attività step by step e quindi studiare le lezioni in sequenza perché se tu studi le lezioni in sequenza correttamente ti fai i tuoi appunti di ciò che hai appreso e vedrai che riuscirai perfettamente a implementare questo metodo che utilizzo io nella mia agenzia con i miei collaboratori per trovare case da vendere e non è finita qua perché hai sì le lezioni del corso ma c'hai anche la modulistica per implementare l'attività quotidiana e quindi all'interno hai le 6 schede per sviluppare la tua attività e c'hai la scheda dei documenti il decalogo c'hai l'acquisizione la scheda della notizia i contatti della zona e la mappatura ok con questo ti auguro buon lavoro ti faccio i miei complimenti ok e spero di averti magari presto a una delle mie aule formative che terrò in Italia oppure magari possiamo incontrarci all'interno del nostro gruppo facebook o possiamo sentirci anche attraverso l'acquisto delle coaching call che ho a disposizione per tutti coloro che vogliono studiare o avere delle informazioni riguardo il mondo immobiliare il marketing e tutte le strategie che metto io a disposizione insomma di chi avessere la necessità di implementarla ti do un saluto ti auguro l'in bocca al lupo da Roberto Lacorte e buon business buon business ciao ragazzi